eccoci, siamo in diretta anche youtube funziona aspettiamo un po' a vedere se si connette qualcuno ed è un po' che non facciamo una diretta è saltata una diretta e quindi sembra di non sentirci vedersi da una vita ben arrivate bevo un goccino di acqua pardon, mi sono dimenticata prima di farlo allora, come state? è un pochino che non ci si vede c'è una settimana quindi sembra che è saltato un mese ciao Felicia allora, come sempre, dirette domande e risposte io ho qua anche youtube in fianco e sembra che funzioni anche quello io ho lasciato, come tutte le volte, ho lasciato il box per le domande quindi mi sono arrivate un po' di domande nel box un bel po', accidenti, un sacco bene, quindi vediamo quello che si riesce a rispondere ok sto dando un asco li passo velocemente così per vedere se ci sono cose simili domande simili quindi come sempre io farò un po' di cerco di rispondere alle domande del box e un po' di rispondere alle domande che ci sono in diretta quindi se qualcuno ha già qualche domanda volentieri perdono, non so cosa siete se qualcuno ha qualche domanda volentieri, se no io inizio magari con le domande che mi sono rimaste, che sono state lasciate nel box ok allora questa, inizio da questa allora hai qualche consiglio su integrazione rimedi non farmaceutici per mal di gole e un co allora integrazioni oddio sì, ci sono delle formulazioni specifiche di fitoterapici di varie aziende adesso una cosa specifica magari non mi viene così su due piedi c'è una formulazione specifica però tutto ciò che appunto va a lavorare sul sistema alimentare anche del propoli ciao Eugenia del propoli per esempio ci sono anche degli spray del dottor Giorgini che è un'azienda italiana che fa delle cose fatte benino si trova anche su Amazon e se non erro c'è lo spray proprio del propoli sto pensando dovrebbe esserci e se no anche per il mal di gola un buon prodotto potrebbe essere quello di una linea che a me piace un'azienda che a me piace molto che è stata creata da uno dei miei ex docenti il mitico dottor Ivo Bianchi che vi consiglio di andare a cercare su YouTube perché è molto prolifico e fa sempre un sacco di video interessanti interessanti su tanti aspetti della salute dottor Ivo Bianchi lui ha una linea che si chiama Scienza Natura andate a cercare Scienza Natura.it e sulla linea loro dell'integrazione loro Scienza Natura c'è anche uno spray proprio per il mal di gola che ho anche qua ma non ricordo bene come cosa in tutte le piante della formazione quindi per non dire sciocchezze vi rimando lì e potete usare anche il mio codice sconto Chiara Chiara solo poi lo metto qua nelle note quindi Scienza Natura cercare Scienza Natura.it la linea dei loro prodotti perché ci sono dentro anche altri prodotti nell'e-commerce e proprio c'è spiegato anche per categorie si trova per il mal di gola uno spray e usate il codice sconto se volete Chiara ok questo allora poi magari farò una newsletter ho pensato quelle del lunedì non la prossima una delle prossime prima dell'inverno insomma dove do qualche dritta sul per tenere forte questo sistema immunitario che mi viene in mente adesso ok dove magari metto dentro qualche integratore Eugenia frutta come fonte di carboidrati la sera esempio anguria, mela che ne pensi abbinato ovviamente a proteine come pesce olio, evo e verdure grazie ma se ti funziona perché no chiaramente valuta tu sulla frutta è sempre interessante avere un'idea di come ci impatta a livello glicemico ok perché ci sono alcuni frutti che magari ci impattano in modo forte esagerato e altri che no per esempio a me la mela che mi piace molto tra l'altro ho mio cugino che le produce biologiche mi spara la glicemia in cielo ma tanto proprio e vabbè le mangio comunque ogni tanto ma non le consumo troppo frequentemente così come l'anguria non l'ho mai provata perché non mi piace però sarebbe interessante provare io lo consiglio sempre quindi provare come con un glucometro continuo che io suggerisco consiglio sempre perché è un bel esperimento ci fa capire tanto tanto per il glucometro continuo senza che sto qua a spiegarvi a meno che non ci sia qualche domanda è un po' lunga e vi invito ad andare a guardare nelle mie storie in evidenza qua su Instagram nelle storie in evidenza sotto il profilo poi per YouTube metto il link che ho fatto una raccolta di storie in evidenza proprio sul glucometro ci sono un po' di spiegazioni ci sono anche due post che ho scritto dove spiego cos'è come si usa e perché e quello che consiglio e l'ho trovata in queste storie in evidenza comunque è quello di freestylibre.it che è il prodotto principale diciamo di Abbott e in Italia è quello più facile da trovare e hanno sempre attiva una promozione per chiedere gratuito il primo quindi io vi consiglio di guardare quello quindi Eugenia per provare è sempre interessante per vedere quale ti impatta di più o di meno e se tu trovi che funziona bene che non ti disturba la digestione eccetera eccetera perché no magari non me ne mangerei non mi mangerei un'orguria intera però immagino un frutto insomma ecco allora la frutta nel pasto è sempre molto individuale ok per un discorso di digestione però anch'io spesso mangio un frutto assieme cioè dopo le proteine le verdure i grassi insomma dopo il pasto invece che un altro tipo di carboidrato no ok mi scrivo un attimo quello di cui parliamo ok sapete che mi scrivo faccio sempre le note così poi non devo andare a riascoltarmi sarebbe un po' lunga allora Eugenia molti la sconsigliano ah sempre tu molti la sconsigliano in quanto ricca di zuccheri semplici e di sera può causare accumulo di abiti ma dipende se mangi un frutto se ti mangi un'anguria intera possiamo parlarne ma ripeto se ti mangi un frutto e proprio per questo motivo che tu dici è vero alcuni la sconsigliano ma tanti perché magari non riescono non riesci a essere digerita bene può disturbare però dipende com'è la tua alimentazione in generale se la fonte di carboidrati che hai principalmente nella tua alimentazione cioè se hai un'alimentazione a molto bassi carboidrati a bassi o molto bassi carboidrati e invece che che ne so delle patate mangi della frutta non è assolutamente un problema di solito sto parlando in generale ok c'è chi ha un'alimentazione prettamente c'è più sul diciamo carnivoro o comunque con pochi vegetali o senza giorni vegetali che è l'unica fonte di carboidrati è la frutta e funziona bene è molto individuale insomma bisogna un po' valutare come causare accumulo di adipe anche qualsiasi altro carboidrato allora anche qualsiasi altro cibo mangiato in eccesso ma insomma il nostro non è che la sera certo la sera siamo un pochino più rallentati diciamo ma dipende dalla quantità anche no ok allora faccio una domanda del box così faccio un po' un po' ah questa sempre sugli integratori un buon multivitaminico io non amo i multivitaminici non li consiglio quasi mai proprio se non in alcuni casi per cui è necessario prendere tante cose e per un breve periodo può essere utile ma non li consiglio mai di base ma perché perché è molto molto difficile inserire in una o due pastiglie di solito il multivitaminico ne prendi uno ne prendi due un sacco di molecole quindi spesso questa è la quantità dei principi delle varie molecole è bassina e quindi ha poco senso è meglio mangiare del cibo vero densamente nutritivo quindi priorizzare le proteine i grassi sani eccetera il fegato è il miglior multivitaminico in natura il fegato e gli altri organi ma principalmente il fregato è proprio il miglior multivitaminico farei assieme alle uova hai tutte le vitamine e minerali che ti servono e se no se proprio si vuole un multivitaminico appunto io lo consiglio mai c'era sono un'azienda che mi piaceva ma adesso è un po' difficile da reperire se no di Natugena che è quella quell'azienda tedesca che a me piace molto di Natugena io in caso consiglio il MamaFit se proprio uno volesse un multivitaminico ma ripeto non ha molto senso mi avviso il MamaFit perché è un multivitaminico è studiato per la donna per la gravidanza eccetera quello che volete però è formulato bene ha dei buoni quantitativi ma ripeto è meglio lavorare con del cibo vero ok poi chiaro se ci sono delle situazioni in cui ho delle carenze importanti voglio dare un aiuto ulteriore ci sta però io guarderei il MamaFit che però non ha dentro alcune cose perché devono essere prese separatamente però quello è un buon un buon prodotto Natugena scusate Natugena scritto punto it Natugena cioè senza l'acca Natugena punto it e magari metto qua nelle note il mio codice sconto che potete usare che è un 15% per il primo acquisto quindi vi consiglio e è FS Ferrara Savona 019 ok ma poi lo ripeto qua nelle note allora Princess Cree ciao volevo sapere la vitamina D la prende un flaconcino mensile ho letto che sarebbe meglio giornaliera ma scomoda che dici no non è scomoda è una volta al giorno io la consiglio vivamente una volta cioè quotidiana è molto scusate tolgo la domanda sotto è assolutamente consigliabile prenderla quotidianamente questo non lo dico io ma lo dicono tutti i medici funzionali la ricerca e quant'altro purtroppo tanti medici consigliano questo di base che spesso è da prendere settimanale o mensile però la vitamina D se c'è da prendere e c'è da prendere sulla base del proprio valore attuale nel sangue è da prendere quotidianamente anche qua io consiglio assolutamente quello di Natugena Natugena.it perché ha diversi dosaggi ha la vitamina D da 2000 unità cioè 2000 UI o più alto o più basso io consiglio quella da 2000 UI perché è più facile da dosare perché di base è una goccia però che è pochino insomma di solito se uno ha bisogno di integrarla bisogna di un po' di più allora è più facile dosare le gocce mensile poi dipende sai sempre quant'è perché tante volte viene dato un dosaggio mensile ma poi se tu lo dividi per i 30 giorni è proprio poco quotidianamente e comunque si viene accumulato però insomma e anche quelle non sono formulate benissimo poi io non mi ricordo mai qual è l'olio di veicolo di quella lì che dici tu di quelle mensili che è sempre questa di base ma è meglio avere delle vitamine D formulate bene cioè con degli oli MCT per esempio di veicolo come quelli che fanno Natugena non è scomoda alla fine è un integratore ci metti cioè la lingua direttamente è fatto no ecco quindi consiglio quotidiano poi metto di nuovo sotto il link no il link no il link lo metto su youtube all'azienda Natugena e qua su instagram metto non si può mettere il link ma metto insomma il nome e il codice sconto ok giorgia ciao chiara c'è anche la lizopharm che commercializza i multivitaminici strat completamente naturali derivati dal lievito ti rigiro anche il materiale ah grazie volentieri non la conosco grazie giorgia volentieri conosciamola sono completamente naturali non in sintesi interessante è sempre il discorso però del multivitaminico comunque tu giramela che sono curiosa grazie Giorgio il multivitaminico perché ripeto la qualità non ci piove è chiaro infatti io se mi seguite da un po' sapete che parlo sempre sull'integrazione di poche aziende che mi piacciono perché proprio io sono ossessionata altrimenti in modo positivo insomma dagli eccipienti quindi guardo sempre se un'azienda mi piace se non usa determinati eccipienti e ha determinate formulazioni quindi il problema del multivitaminico è sempre che non si riesce a condensare così tante molecole in uno o due pastiglie quindi è quello ripeto il problema ok faccio un'altra domanda aspetta aspetta che qua c'è Eugenia che dice la questione di frutto epico-glicemico se si alza non c'è probabilità di accumulare adipe nel tempo l'avevo capito così grazie Chiara grazie a te ma sì però questo vale per qualsiasi cosa ti fa alzare la glicemia quindi che sia un frutto che sia un qualsiasi altro carboidrato amidaccio cereale cioè le patate il riso la pasta il pane pare in bianco tutte queste cose qua tutte possono alzartelo in maggiore o minore quantità però è la glicemia sempre alta è la glicemia che non rientra che è il problema se tu hai un fisiologico aumento dopo un pasto che idealmente rimane entro i 140 e poi torna giù nella tua linea base solitamente non è un problema è quando hai sempre costantemente i picchi glicemici molto frequenti nella giornata quando i cibi che scegli sono anche infiammatori di per sé e non nutrienti insomma ci sono tanti aspetti no? bisogna sempre guardare cioè non è la singolo pasto è insieme sempre però ripeto sì ha senso quello che dici ma dipende cioè un picco glicemico non vuol dire sempre che va su un aumento e poi una riduzione e deve essere abbastanza morbida no? se hai un picco ogni due ore un picco oltre esagerato ogni due ore allora lì subentrano problemi ma subentrano può subentrare uno cumulo di adip ma non è detto c'è chi non accumula però ha un sacco di infiammazione e altre problematiche no? ciao Oli ok passo alle domande del box ok mi sa che c'erano due domande sulla zucca adesso guardo un'altra allora adoro la zucca ma posso mangiarla la sera dopo cena come dolcetto chiamiamo questa cosa della zucca perché purtroppo anche qua vedo che ogni tanto partono dei messaggi a mio avviso un po' sbagliati che fanno paura non dobbiamo avere paura del cibo soprattutto del cibo vero e quindi la zucca la zucca che sia un'alimentazione a bassi carboidrati quello che volete che è quella che comunque io appoggio che io promuovo e insegno eccetera un po' più bassi carboidrati non vuol dire zero vuol dire insomma quelli che il nostro corpo può gestire meglio la zucca non è come mangiare zucchero puro ok è un ortaggio allora dire la verità la zucca è un frutto comunque è nella categoria degli ortaggi il suo apporto di carboidrati è bassissimo come un qualsiasi vegetale cioè non come un qualsiasi vegetale comunque al pari di un vegetale magari non come una verdura verde quindi come le carote i pomodori le mariantare hanno più o meno tutti se non erro basta guardare insomma si cerca valori nutrizionali zucca e si vede un po' e quindi sono tutti analoghi a livello di carboidrati non sono tanti saranno 7 grammi per 100 grammi di alimento quindi ok non sono da paragonare a un altro tipo a un carboidrato amidaccio come le patate il riso la pasta il pane le farine insomma che compagna bella non sono da paragonare a quelli perché se voi solamente andate su google e cercate valori nutrizionali zucca valori nutrizionali patate valori nutrizionali zucca valori nutrizionali che ne so farina vedete la differenza ok stiamo parlando di 7 circa adesso ripeto non mi ricordo contro boh 80 50 80 di più eccetera no ok a livello di carboidrati ha un filo più di zuccheri di un altro vegetale ma al pari ripeto delle carote della melanzana nel pomodoro quindi un attimino più di zuccheri ok ma anche un po' più di zuccheri di di un di un cereale ma comunque non è scusa poi rispondo a questa domanda sul dolcetto da giusto come il dolcetto però non dobbiamo averne cioè non possiamo paragonarla a un altro carboidrato amidaceo ok perché spesso viene detto magari anche oggi mi ha scritto una ragazza chiedendomi perché questa cosa mi è stata fatta paragonare alle gallette di riso mi pare e al pane non è paragonabile a quello ok cioè non è che uno vale l'altro sono due cose completamente diverse quindi volevo chiarire questa cosa qua non so se è stata chiara o sono stata un po' confusionaria fatemi sapere comunque per rispondere a questa domanda qua certo io intanto non posso dire cosa si può cosa puoi non puoi mangiare anche perché non conosco la tua situazione eccetera quindi in linea generale se una non ha meno che una persona non sia in un'alimentazione chetogenica terapeutica o comunque chetogenica stretta e non mangia non ha un certo porto di carboidrati e di zuccheri e quindi in quel caso di anche la zucca ma altrimenti perché no insomma se non ci sono problemi e la puoi mangiare sì se ti piace mangiarla come dolcetto come scrivi tu perché no perché comunque è piacevole beh insomma teniamola come una verdura con un filo più di zucchero ma proprio poco stiamo parlando di due grammi di tre quattro non mi ricordo insomma ok oli zucca e carota sono simili a proprietà sì infatti non so se ti intendi valori intrezionali per valori intrezionali sono proprio simili mi pare a parte il rapporto di carboidrati ma proprio di sciocchezze stiamo parlando ok perché spesso si dice ah è più zuccherina come il carotero non si mangia dipende cosa stiamo facendo se un nutrizionista o un dietista ci dice non mangiarla perché stiamo facendo un regime chetogenico allora ha senso però paragonarla a pane e qualcos'altro insomma mi sa che c'era un'altra domanda sulla zucca guardo un attimo se la trovo non la trovo ah sì questa qua l'avevo vista prima passando zucca dieta ipocalorica la mia dietologa diceva che è troppo dolce quindi no eh dipende cioè dipende cosa ti aveva proposto cioè se stavi facendo ripeto una dieta cetogenica allora facilmente ti ho detto di no però insomma cioè non è che ha a livello poi dipende come l'aveva formulata avrà fatto i suoi ragionamenti però troppo dolce ha un po' di zuccheri però anche lì dipende veramente dalla situazione della persona qui quindi non posso assolutamente cioè ho da mi piace dare le spiegazioni dietro e quindi e poi tu rispetto alla tua situazione devi fare le tue valutazioni assieme alla tua dietologa magari avevi problemi importanti a livello glicemico quant'altro quindi ha valutato che per un periodo è meglio evitare anche quelli un attimo che guardo mi sono perso qualche domanda allora andiamo avanti con quelle del box altrimenti voi scrivete questa qua sto perdendo un sacco di capelli da 20 giorni eh sono troppo poche informazioni allora vabbè qualcuno potrebbe dire il classico cambio di stagione che può aver senso o meno e ci sono tanti motivi per cui si perdono i capelli di tanti ehm escludendo problematiche importanti ok stiamo un po' più sul leggero e c'è una un calo cioè non stai mangiando sufficienti proteine è la cosa più banale disequilibri tiroidei in verso ipotiroidismo di solito eh stress importanti avvenuti nei tre mesi precedenti ma perché perché la nostro capello ha una vita di tre mesi e pertanto quelli che cadono adesso erano già dovevano già cadere insomma erano già morti diciamo tre nei tre mesi precedenti quindi ehm è molto importante ragionare un po' ritroso e capire cosa è successo nei tre mesi precedenti e quindi se ho fatto un'alimentazione super restrittiva questo può succedere ogni tanto all'inizio di una dieta visto che ne parlavamo di un'alimentazione chitogenica dove si fanno le cose un pochino fai da te e quindi si fanno le cose troppo drastiche i passaggi drastici da tanti garboli dati a zero di colpo non si inseriscono abbastanza grassi abbastanza proteine insomma e quindi si ha una carenza di nutrienti e uno shock per il corpo e vi ricordo che noi donne hanno i donne i nostri ormoni che ce li abbiamo regolari o meno comunque non piacciono gli shock dobbiamo fare le cose piano piano infatti anche in energy restart che non è alimentazione ketogenica ma comunque abbastanza di carboidrati facciamo queste riduzioni piano 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 in modo in modo smooth morbido no? da non dover da non creare shock all'organismo quindi ti posso consigliare per chi ha fatto questa domanda di capire se hai avuto degli stress importanti negli ultimi tre mesi degli stress degli shock dei traumi anche cambiamenti di vita cioè possono essere sia positive che negative però tante cose che hanno un po' che ti hanno sovraccaricato e se hai fatto cambi importanti alimentari che non hai compensato bene carenza di proteine eccetera eccetera i puteroidismo queste sono i primi ok? le cose più banali tra virgolette che possono avvenire poi altrimenti bisogna andare a indagare un pochino di più ok? ok non ci sono zero domande io non so se mi sto annoiando a leggere solo quelle del box poi io vado avanti con quello ok? fatemi sapere allora blu di metilene wow consigliato spesso nella community di biohackers cos'è? qual è il suo utilizzo? allora tanto non so complimenti perché è qualcosa che non conosce praticamente nessuno comunque il metilene blu o blu di metilene è un viene utilizzato ad oggi da chi lo utilizza così come è uno di quelli considerati una molecola considerata un nootropo una sostanza considerata nootropo nootropic che praticamente va a lavorare su diversi aspetti e va principalmente ha un impatto sulla funzionalità sulla cognitività quindi dà maggiore focus maggiore memoria però ha anche un'importante funzionalità nei mitocondri perché diciamo che migliora la migliora la produzione di energia detta così no perché va a lavorare sulla sulla catena di trasporto degli elettroni per la produzione dell'energia e e poi ha anche degli effetti antiossidanti a livello proprio di cerebrale delle cellule cerebrali io non l'ho mai provato è quello che non so se qualcuno sa di cosa parlo comunque quando si vede qualcuno con la lingua blu ok perché da questo effetto appunto è blu di metilene è una molecola che è stata ha una storia molto lunga già nel 1800 mi pare che era stata individuata e scoperta e veniva usata anche come antisettico antibatterico per anche negli acquari se non sbaglio non mi ricordo bene vorrei dire una sciocchezza e per anche una malattia che adesso non ricordo mai inizialmente però sì è interessante io non ho idea in Italia dove si possa trovare facilmente se c'è qualcosa a livello italiano a livello europeo di sicuro però non so altro non l'ho mai provato sinceramente interessante comunque che tu sappia questo bisognerebbe chiedere a Vanessa Bertinotti che è la quella che io chiamo la biohacking queen e ho visto forse se ci sei Vanessa fammi sapere se no vi consiglio di andare non so se hai mai parlato del metilembro non penso perché forse anche lei non l'ha mai provato comunque vi consiglio di andare a seguirla Vanessa perché dà un sacco di consigli su salute e biohacking proprio e ha anche un bellissimo podcast che si chiama salute e biohacking e intervista sempre personaggi professionisti pazzeschi che danno un sacco di informazioni molto molto utili oli perte di capelli a me è capitato con cambio drastico alimentare per allergie e intoleranze eh si può essere perché se hai fatto un cambio drastico troppo scioccante per l'organismo può succedere purtroppo è temporaneo se è così però è per quello che bisognerebbe andarci per cui sempre un pochino piano e succede ripeto perché se succede perché non è detto che per forza succede sempre se succede perché appunto abbiamo creato uno stato di carenza o magari anche potrebbe essere anche appunto magari un cambio alimentare importante cioè proprio drastico drastico e carenza alimentare più magari tanti digiuni dei digiuni un po' lunghetti e quindi creano veramente uno stato di stress nell'organismo e dobbiamo ricordarci che purtroppo i capelli sono un accessorio no? per il nostro organismo non hanno una la funzionalità di sopravvivenza comunque non sono così importanti ok? nel tutto nell'insieme pertanto se c'è da destinare energia a settori molto più importanti il corpo non pensa ai capelli cioè togliere il nutrimento e l'energia per farli crescere eccetera e lo va a destinare a aree più importanti no? ok andiamo avanti qua con le domande nella chat grazie per i like su youtube apprezzo sempre che purtroppo questo canale di youtube lo tengo un po' non lo guardo non lo non lo curo molto lo uso solo per le dirette quindi mi fa molto piacere grazie ok questa domanda come mai se la sera non mangio carboidrati dormo male ma perché potrebbe essere che ti danno con l'aiuto di calma sul cortisolo e quindi di miglior inizio del sonno e miglior sonno infatti i carboidrati hanno un effetto un pochino sedativo parliamo di carboidrati amidaci principalmente hanno un effetto sedativo un pochino e infatti io consiglio di metterli alla sera soprattutto in un'alimentazione più bassi carboidrati ci possono stare alla sera e perché appunto danno questo effetto un po' calmante sul cortisolo e magari ne senti la necessità o magari appunto hai questa carenza quindi se tu vedi che funzioni meglio a metterli la sera perché no probabilmente hai altrimenti potresti mantenere un livello di stress un po' altino però cerca di guardare il quadro generale e capire come mai sono necessariamente quelli sono necessari per farti dormire bene e capire se non hai una carenza di nutrienti in generale però può essere l'effetto principale che ti danno quindi hai bisogno di un pochino più di calma quindi valuta tienili assolutamente nel passo ma magari valuta di trovare dei momenti di calma cioè di crearti il tuo momento di calma respirazione un po' di meditazione o comunque insomma crearti una routine serale ok un attimo che scrivo caduta di capelli legata ad un periodo di stress lavorativo e vita personale si può intervenire magari con delle vitamine bisogna intanto ridurre la causa che è lo stress ok scriviamo giù diamo del tempo al corpo diamo un nutrimento al corpo con il cibo vero e poi possiamo sicuramente aiutare con delle vitamine dei minerali ma vi ricordo la piramide è cibo e stile di vita nel senso che chiaro se c'è un periodo stressante non è che possiamo staccare la spina e ciao chi si è visto si è visto ok però lavoriamo abbiamo capito individuare i fattori le cause dello stress di quel momento e cercare di capire dove posso far qualcosa dove arginare dove posso mettere dei paletti dove magari posso posticipare dove magari posso farmi aiutare quindi delegare capire se è fattibile quella cosa lì e tornare giù un attimo oppure crearsi dei momenti non negoziabili dove abbiamo un momento di rilassamento di decompressione quindi proprio regolare una mattina alla sera o entrambi e questo è fondamentale e poi cibo ok quindi punta su proteine perché noi siamo fatti di proteine i nostri capelli lo sono fatti di aminoacidi quindi proteine come dicevo all'inizio se vuoi un multivitaminico naturale se ti piace è il pegato almeno una volta a settimana quello è veramente pazzesco perché ha dentro tutto il pool e poi si possono venire d'aiuto delle vitamine e dei minerali in generale anche lì però bisogna sempre non andare a caso a mio avviso perché spesso vengono proposti questi integratori per i capelli e si ha senso quello che hanno dentro perché hanno le vitamine del gruppo B la vitamina C lo zinco insomma chiaro però bisogna sempre vedere quanto c'è dentro di ogni cosa e se ha senso e altrimenti cercare le cose un pochino più formulate meglio ecco vedo che c'è un'altra domanda sul tema per dei capelli qualche consiglio alimentare per rinforzarli ripeto bisogna sempre capire la causa prima di un evento di un perché mi sta succedendo questo io come naturopata guardo sempre all'insieme bisogna sempre guardare il quadro e vedere dove ci sono le varie cause alla radice quindi lavorare sulla radice sulle cause alla radice e nutrire profondamente il corpo ripeto il nutrimento per i capelli è il nutrimento per il corpo quindi quando diamo un cibo densamente nutritivo che principalmente sono le nostre proteine che non vuol dire solo carne vuol dire carne prescia e uova i grassi sani di cui noi siamo fatti noi siamo fatti di proteine grassi acqua e tutto il corollario senza avere eccessi di con una glicemia stabile insomma senza creare infiammazioni allora l'organismo è in grado di mantenere tutto il suo nutrimento di utilizzarlo al meglio anche perché i cibi di cui parlavo proteine e grassi sono completamente biodisponibili vuol dire che il nostro corpo li riconosce nel totale e riesce ad assimilarle completamente chiaramente c'è sempre un discorso anche di flora batterica che se non assimila bene posso mangiare tutto quello che voglio e non trattengo a livello di nutrienti però se stiamo mangiando cibi densamente nutritivi e ci aiutano anche a abbassare le infiammazioni poi assimiliamo anche bene bisogna avere un'eterna pazienza con i capelli ok hanno bisogno di tempo per crescere e quindi insomma abbiate pazienza ah una cosa che non ho detto assolutamente facile invece da integrare assieme a un'alimentazione nutriente è il collagene che sciocca non ci ho pensato il collagene allora non è che aiuta cioè in parte anche a far crescere i capelli più insomma per il lavoro proprio di di stimolo del collagene ok di produzione del collagene può essere un aiuto ma vi ricordo l'integratore è un integratore in qualsiasi caso non può andare a sostituire una buona alimentazione uno stile di vita adeguato una gestione dello stress dove è possibile no in questo caso serve tanto quel lavoro lì allora di cosa abbiamo parlato capito ok allora fatemi fare un'altra domanda qua nel box patate dolce o pasta bianca contengono solanina no le patate dolci intese come i tuberi quelli sudamericani insomma le patate americane no sono le nostre le patate comuni quelle insomma rotondeggianti che sono solanace e quindi hanno solanina le patate americane la batata insomma tutti quei tuberi la manioca tutti quei tuberi bislunghi di qualsiasi colore sono internamente sono un altro tipo non sono solanace non mi ricordo la famiglia ok cosa ne pensi del variare poco e delle possibili creazioni di intolleranze dipende non con tutto si creano intolleranze cioè si con alcune cose però alcuni cibi no per esempio è facile che di base si mangino sempre le stesse cose no nessuno fa se ci pensate alla personale varietà sono sempre quelle cose che girano ok se mangio lo stesso cibo tutti i santi giorni posso magari svilupparla l'intolleranza però più la sviluppo su composti che effettivamente possono portare a dell'intolleranza perché mi possono creare dell'infiammazione così idealmente quindi tutto ciò che magari contiene degli antinutrienti quindi sui vegetali magari le frutte secche i semi i cereali in generale cioè il glutine queste cose qua dobbiamo stare magari un pochino più attenti è vero che alcune persone in determinate circostanze magari anche le uova possono in accumulo possono essere un problema però lì di solito c'è un problema di infiammazione sotto a livello intestinale no se perché tutto parte da lì sono le nostre radici se l'intestino è funzionante in equilibrio della plurabatterica non è infiammato se non creiamo le circostanze per infiammarlo ok allora non creiamo neanche le circostanze per avere delle intolleranze è un giro insomma una cosa che si che si autoalimenta però ripeto dipende come mangi se si mangia cibo vero poco processato non si esagera con la frutta secca che io quella può secondo me creare intolleranze sì infatti io consiglio di mangiarla insomma non per forza quotidianamente allora anche se mangi sempre le stesse quattro cose io per esempio io mangio sempre le stesse cose e intolleranze so che posso svilupparle per esempio personalmente sulle mandorle se io le mangio tutti i giorni infatti non le acquisto più e in generale con la frutta secca e ok non so se mi sono spiegata ok più magari ci possono essere delle carenze però anche qua se non abbiamo varietà però anche qua dipende cosa si mangia perché se la varietà è la poca varietà vuol dire io mangio principalmente proteine i grassi qualche verdura qualche carboidrato e magari non mangio una grande varietà di carboidrati eccetera eccetera difficile avere delle carenze perché cibi più nutrienti li mangio ok e quando magari non abbiamo varietà nel senso che mangiamo solo carboidrati per dire che ne so solo riso dico una cosa impossibile ok solo pasta e basta e non mentiamo mai mai proteine allora possiamo avere delle carenze nutrizionali allora tiroidite di Hashimoto con ovario policistico integratore Omega 3 può aiutare o entrambe le figlie con il problema accidenti mi spiace lì c'è da lavorare sull'alimentazione con ovario policistico gli Omega 3 aiutano sempre perché lavorano sull'infiammazione assolutamente sì perché no però Hashimoto ovario policistico c'è da fare sull'alimentazione Hashimoto è un'autoimmunità ovario policistico è nella maggior parte dei casi un disequilibrio è quello che viene chiamato un'insulino resistenza a livello ovarico quindi cibo e in entrambi i casi la letteratura scientifica è molto chiara che sono reversibili e si possono mettere no allora il ovario policistico è reversibile totalmente assolutamente con l'alimentazione la tiroidite di Hashimoto ti rimane una componente autoimmune però chiaramente puoi controllarla con l'alimentazione ok si arriva ad averlo sotto controllo e per roba policistica nello specifico è necessaria un'alimentazione a più bassi carboidrati quindi di creazione di una regolarità glicemica e quindi insulinica che poi è quello che facciamo anche con Energy Restart nel mio percorso lavoriamo proprio su questo principalmente sul dare nutrimento per Hashimoto che è un'autoimmunità bisogna andare a togliere assolutamente i trigger e è chiaro anche qua ripeto a livello scientifico letteratura scientifica non mi invento niente che il trigger principale per le autoimmunità e quindi la Hashimoto è il glutine ok però è necessario andare a mettere da parte anche altri composti fino a che non sia una remissione e poi la maggior parte alcuni di questi quattro principali trigger la maggior parte di persone con Hashimoto o comunque con autoimmunità non li reintroducono perché possono essere infiammatori perché l'autoimmunità è una problematica di natura infiammatoria a livello intestinale ok da cui parte poi una non adeguata diciamo una iper attivazione del sistema immunitario che poi va a danneggiare un po' alcuni tessuti propri no dell'organismo quindi c'è da lavorare sull'infiammazione e il primo trigger è il glutine poi ci sono i latticini i legumi per la maggior parte delle persone con autoimmunità infatti anche in Energy Restart nel mio percorso io ho una grandissima attenzione per l'autoimmunità perché è un'area che una problematica che mi interessa proprio tanto tanto anche perché nella mia pratica ho visto dei miglioramenti enormi con l'alimentazione no lavorando su questi aspetti e quindi anche in Energy Restart contemporaneamente a tutto c'è sempre una grande attenzione all'autoimmunità e i cibi quei quattro cibi che mettiamo da parte inizialmente per il percorso sono anche i trigger dell'autoimmunità perché alla fine sono i cibi più infiammati quelli che vengono considerati grandi infiammatori no poi c'è chi potrà reintrodurre qualcosa chi con autoimmunità magari no perché il glutine secondo me se è un'autoimmunità da dimenticarselo e creare però un'alimentazione estremamente piacevole e appagante nonostante e allo stesso modo puoi lavorare con la stessa alimentazione su tutte e due le problematiche abbassando il carico abbassando un pochino i carboidrati per lavorare sulla parte glicemica ripulendo un po' e questo è principalmente come dicevo prima pensiamo a lavorare sull'alimentazione poi l'integrazione di corollario è sempre di aiuto può essere di aiuto soprattutto in questi casi perché si può lavorare anche con altre sostanze altri integratori specifici no però gli omega 3 si prendili ti consiglio assolutamente quelli di Norsan ok attenzione con gli omega 3 perché sono allora come su tutti gli integratori bisogna stare attenti perché non tutte le aziende fanno le robe bene adesso ce ne sono un milione in commercio se non so di più e quindi per gli omega 3 ancora più attenzione mi raccomando perché gli omega 3 sono una molecola estremamente instabile instabile nel senso che si può ossidare facilmente se non sono seguiti tutti i processi di estrazione e lavorazione con tutti i crismi e altrimenti può diventare un composto un po' infiammatorio da antinfiammatorio no e quindi io consiglio Norsan assolutamente che è norsan.it la trovate anche qua su Instagram che è un'azienda che fa solo omega 3 e quindi se guardate un po' sul sito e leggete un po' la loro mission la loro filosofia è chiaro che insomma perché io mi fido solo di loro metto anche qua la nota comunque norsan.it loro hanno diverse opzioni e qualsiasi opzione è analoga è valida e ho anche potete usare il codice sconto che è sempre lo stesso di Natugena che è FS cioè Firenze Savona 019 ma lo metto qua sotto ok in generale comunque per l'autoimmunità di omega 3 perché ripeto è infiammatorio scusate voglio un bello un goccio di acqua ma l'ho finita allora che ore sono ok ci siamo ok allora vado un attimo su quello del box si esce allora consumare cereali e patate fredde è meglio in quanto basta il carico glicemico e e ah quindi c'è un'altra domanda e ah e rende il pasto più digeribile l'altra domanda era ma tengo questa allora allora sì ci sono diciamo che eh cuocere poi raffreddare le patate bianche le patate il riso insomma ah permette la formazione di amido resistente questo amido resistente è un amido sostanzialmente è indigerito dai nostri cioè non è digeribile per il nostro organismo perché non viene scomposto dagli enzimi digestivi e e può fermentare parzialmente nell'intestino però è indigeribile quindi alcune categorie di amido resistente vengono considerate come delle fibre no? che sono indigeribili giusto? pertanto vanno si è visto che questo amido resistente che si sviluppa eh quando si si cuociono e poi si raffreddano i cibi quindi un po' in frigo no? e poi si mangiano si possono anche riscaldare leggermente e può mantenersi l'amido resistente eh si è visto che sono benefici per la flora batterica perché sviluppano vanno a nutrimento della flora batterica e per la questione digeribilità è abbastanza soggettiva però si insomma può essere una vanno ad abbassare scusa volevo dire anche il carico glicemico perché ovviamente essendo indigeriti da noi no? quindi essendo come le fibre vanno ad abbassare il carico glicemico di quell'alimento quindi sì e poi sono anche benefici più che per un discorso di digestione sono benefici quindi lì bisogna vedere poi per la digestione in modo soggettivo ok? l'amido resistente ok ma quelle che dicono che troppe proteine gonfiano il corpo in che senso gonfiano il corpo? una media di 1,5 per 1,5 grammi penso per chi lo corpore può andare allora io non posso non sono nutrizionista non posso dare grammature di questo tipo assolutamente quello che ti posso dire è che e questo riporto ok? riporto ricerca eccetera perché proteine è un argomento che mi interessa molto le linee guida danno un apporto estremamente troppo basso che è proprio la minimo necessario per per spravvivere che è 0,8 la maggior parte ad oggi sì di di ricercatori medici funzionali quant'altro che studia e lavora sulla sul metabolismo delle proteine eccetera parla sì di quantità dall'1,5 2,2 fino a 2,2 per un soggetto anche atletico sano e sì almeno insomma anche la dottoressa Tomasi che parla sempre di proteine vi consiglio di andare a ascoltare quello che dice che lei divulga tantissimo anche lei parla di 1,5 almeno quindi più o meno insomma sì è quello che si evince poi non c'è un consenso ad oggi sulla porto proteica perché è abbastanza difficile non ci sarà mai un consenso sulla porto proteica parlo di questa nuova tra virgolette corrente che va a studiare un po' di più il vero apporto proteico per creare per far prosperare l'organismo no e quindi però più o meno navighiamo su questi su questi numeri ecco anche di più ecco il discorso confiano dipende con cosa le abbini insomma noi siamo fatti proteine ne abbiamo bisogno e è difficile arrivare al proprio apporto quotidiano veramente è difficile se non si mettono in tutti e tre i pasti idealmente però almeno almeno in due e in un buona quantità ok allora qui mi era arrivata un'altra domanda nel box ma me l'avete me l'ha scritta anche prima quindi l'ho già risposta wow ho finito le domande del box credo allora vediamo qualche altra domanda qua abbiamo ancora dieci minutini neanche allora le gallette di riso sono alimenti ok processati ma quindi proinfiammatori ah sono alimenti ok processati ma quindi sono proinfiammatori allora tutti gli alimenti cioè ci sono gradi di processazione ok anche noi in casa quando cuciniamo processiamo il cibo poi ci sono quelli ultra processati e quelli meno e allora che siano proinfiammatori facilmente se ne continui a mangiare ma più che altro non sono cibo come dice dice la buona dottoressa Cristina Tomasi e quindi la quote come dice la dico quello che la riporta una sua frase una sua affermazione le gallette le potete usare come sotto bicchieri così lei dice e io sono anche un po' d'accordo perché insomma dai sembra un po' polistirolo sono lavorate sono cioè sono cereali espansi sempre che già di per sé l'aria non è mai una bella idea ingerirla no e avere l'aria hanno un picco un impatto glicemico importantissimo ok soprattutto quelle di riso perché il riso ha già un impatto glicemico di suo importante fatti in modo soffiato ancora di più ma proprio importante importante e zero nutrimento cioè veramente sono al pari di un pezzo di cartone quindi nutrimento è zero non ha senso secondo me mangiare le gallette non ha senso io capisco che vengono fatte anche per perché si deve utilizzare tutto per evitare gli sfrecchi alimentari però non ha senso spendere i soldi lì piuttosto ti prendi se non hai problemi con il glutine un buon e non hai autonomità eccetera eccetera un buon panno integrale lievito madre di fatto di fatto con la lievitazione madre vera e è tutto un altro alimento che è digeribile ti si riduce anche un po' il contenuto di glutine c'è un'altra cosa ok quindi o piuttosto ti mangi il cereale proprio in sé in chicco in questo caso il riso se ti piace il riso però gallette non ha proprio senso Giorgia ovaio policistico la letteratura dice che spariscono anche le cisti dentro allora attenzione perché ripeto disclaimer gigante che mi dimentico di fare inizio io non sono medico non sono nutrizionista io sono naturopata e consulente nutrizionale pertanto quello che quando parlo di queste cose che sono comunque ovaio policistico una patologia eccetera non è per fare diagnosi per fare il medico che non sono ok riporto quello che so che studio eccetera quindi l'ovaio policistico ad oggi ad oggi insomma è da un po' che c'è la proposta di cambiarle intanto il nome perché è fuorviante perché si è visto che non sempre ci sono queste cisti disposte in un certo modo nello stesso un certo numero e si è visto che più la sindrome dell'ovaio policistico perché è una sindrome appunto fatta di diversi fattori deve essere diagnosticata tramite altri esami ovvero a livello bisogna testare gli ormoni quindi per vedere se c'è un eccesso di androgeni di testosterone banalmente ok e anche se c'è insulino resistenza quindi le cisti possono esserci o meno diciamo numero esagerato e non è ad oggi ripeto il porto quello che so che si evince dalle ultime diciamo informazioni ricerche non è una diagnosi accurata basarsi solo sulle cisti perché tutte le donne hanno delle cisti è normale finché sia fertili perché ogni pollicolo se non viene poi sviluppato a uovo rimane una piccola cistina poi dipende quante sono come sono eccetera ci sono delle caratteristiche specifiche però ripeto non è per spiegarti che questo non ti so dire se poi vengono eliminate le cisti magari ritornano a un numero un po' più accettabile però qualcosa c'è sempre princess sono norsan brava usa il mio codice sconto che ti prendi vale solo per il primo acquisto mi sa però è un bene un 15% e poi loro ogni volta che una volta che si è clienti mandano degli sconti ogni tanto ok luisa si possono mischiare proteine di diversa natura come ad esempio proteine vegetali animali e proteine animali e uova allora ho fatto un reel proprio la settimana scorsa se vai a guardare sul mio profilo c'è proprio questo è proprio non mi ricordo neanche come l'hai intitolato comunque posso mangiare proteine diverse nello stesso passo la risposta è assolutamente sì perché il nostro corpo si arrangia a digerire le varie cose in vari momenti dell'apparato digerente e quando abbiamo questi dubbi a livello di alimentazione chiediamoci sempre se fosse davvero un problema ci sarebbe la specie umana ad oggi no perché se fosse stato un problema la combinazione di diverse proteine nello stesso seduta e non saremo a giorno d'oggi qua a raccontarcelo no e questo vale per un sacco di altri falsi miti che purtroppo si sono instaurati non si sa perché questa cosa qua io ancora se qualcuno lo sa me lo dice non ho ancora capito come mai si è instaurata questa informazione sta solo quindi a livello fisiologico non è un problema assolutamente sta solo nel capire magari a livello soggettivo se c'è qualcosa che compromette la digestione quindi magari più che il fatto che sono due proteine diverse parlo di proteine animali attenzione perché vegetali è un altro discorso e ti spiego adesso è magari l'apporto totale che mi può creare a livello soggettivo per alcune persone delle difficoltà digestive però è veramente in caso una questione soggettiva di capacità digestive e lì dobbiamo andare a chiederci come mai e andare a lavorare su quelle cause e e cos'altro volevo dire me lo sono perso nella testa nella conversazione quindi principalmente a livello fisiologico non c'è problema è più soggettivo o appunto se ci sono delle necessità e anche ecco cosa voglio dire a livello di gusto ok quindi magari non tutti amano mischiare cioè chi ama mangiare le cose singole io pesce e carne le mangio anche insieme per capirci poi il discorso più importante è capire che e questo l'ho scritto anche in questo post che ho fatto in questo richio che ti invito ad andare a guardare Luisa e proteine vegetali è un po' una dicitura purtroppo anche questa non sto dicendo te sto dicendo in generale ci viene inculcata questa cosa ma è scorretto dire proteine vegetali se parliamo di legumi perché sono carboidrati gli alimenti vengono caratterizzati in proteine carboidrati o grazie in base all'ammontare maggiore di quello che apportano i legumi apportano principalmente carboidrati come analogamente a un cereale e quant'altro ok hanno un filino più di apporto proteico ma un filino ok se anche qua come parlavamo della zucca andate a prendere su google cercate valori nutrizionali che ne so lenticchie ceci quello che è valori nutrizionali riso qualsiasi altro cereale e li confrontate e vedete lo capite da solo che carboidrati ci siamo è la stessa cosa proteine quello di più però non possono essere considerate delle proteine perché intanto non sono complete a livello di proteico sia mi apportano degli aminoacidi di più di un cereale di sicuro ma non sono completi ok e quindi qua sarebbe se tu mi dici legumi e carne o legumi e pesce stiamo parlando di carboidrati più proteine comunque in ogni caso anche lì non è un problema perché anche questo se fosse un problema non saremmo insomma non saremmo in grado di sopravvivere e l'organismo nel sistema digerente ha tutta una serie di enzimi che adibite alla digestione di carboidrati proteine grassi però anche qua è una questione soggettiva se vedi che mangiando combinato è un problema allora bisogna andare a capire a lavorare un pochino magari sulla digestione e non abbinare tutte le cose ok ragazzi io devo andare perché sono le sette e mezza e devo concludere scusatemi non so adesso non vedo più se ci sono altre domande quindi mi scuso se non ho risposto a tutte le domande come sempre e grazie grazie per queste belle domande è sempre super interessante queste chiacchierate queste dirette spero di non annoiarvi quando vado un pochino lunga con le mie spiegazioni fatemi sapere datemi un su o un giù se se vado troppo lunga perché insomma so che sono un po' logoroica comunque io vi ringrazio di cuore sempre delle belle chiacchierate adesso nelle note lascio un po' con le cosine degli integratori di cui parlavo anche qua su youtube metto le note i link e ci vediamo il prossimo lunedì ok lunedì prossimo sempre solita ora facciamo la nostra diretta dove mi risposte quindi se non ho risposto a qualcuno tenetevi le domande così le rispondiamo la settimana prossima grazie mille di cuore fatemi sapere se vi piacciono queste chiacchierate datemi qualche like qualche cuore ok dopo è scontato che sì allora va bene grazie mille buona serata buona serata a tutte